ciao a tutti allora oggi voglio fare un video sulle mie cover e mi sono arrivati due cover cioè mi hanno regalato il mio compleanno e ora ve li faccio vedere sono aspettate devo contarli allora 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 sono 9 e spero che mi piaccia e niente ora ve li faccio vedere allora il primo cover che ho avuto proprio quando ho avuto il telefono ho avuto questo 6 questo sì è bellissimo lo so mi piace un sacco con queste triangoli eccetera il secondo è stato questo aspettate questo anzi prima questo però non lo metto perché non è il problema che il problema è lo specchio non come è fatto ma lo specchio perché si è rovinato quindi non mi piace mettere cose rotte e poi questo ho comprato a san francisco si tutti mi dicono ma l'hai comprato a los angeles lo so che c'è scritto los angeles ma comprate san francisco mi piaceva perché c'era scritto los angeles in arcobaleno e la città tutto arcobaleno mi piaceva mi piace un sacco questo cover cioè si può pure togliere va beh sembra che è rotto invece no si può rimettere però comunque poi questo l'ho trovato in macchina di mamma aspettate di gomma cioè si può pure piegare e ho trovato in macchina di mamma ho incollato non sono adesivi cioè ho messo ho scritto sull'ipad questo è un cuore questo questa è una videocamera questa è una con con il bacio sì con il bacio e l'ho stampato e mi piaceva metterli attaccati e poi questo che è di mia madre però ma cioè io avevo un altro che era un cover così era fucsia argentino oro cioè a righe fucsia e oro e c'era pure quando abbassavi una parte del cover così c'era lo specchio e a mamma le piaceva quindi io le ho date per essi per farli felice poi questo è trasparente però ci sono queste cose attaccate voi vi chiedete che cos'è e lo smalto volevo togliere e volevo volevo attaccarci qualcosa più carino invece di queste cose pezzetti vabbè e niente mi ha regalato un mio compagno di classe invece questo mi piace un sacco questa è la seconda cioè il primo è questo lo adoro tra questo e questo non c'è non so quale scegliere questo penso perché questo è un po un po grande per tenere in mano pure nella tasca non ci riesci poi si può togliere aspettate è così è così si può tenere così come uno specchio oppure togliere così tenere si vede la macchina fotografica vediamo no e l'ho comprato mi ha comprato al mio onomasio mio padre a non so dove non so su cosa mi piace un sacco e e questo lo adoro lo adoro sul serio mi ha regalato una mia amica che si chiama soffi grazie per il regalo lo adoro che mi ha detto che c'era pure rosa di colore però era coniglio però il colore era diverso era rosa invece c'era pure la clessidra con dei brillantini che scendevano se facevi così cioè sapete come la clessidra e poi e poi basta penso sì sono queste aia mi sono fatta male sono queste le mie cover e niente spero che vi sia piaciuto e niente e ci vediamo al prossimo video ciao